Ho cominciato suonando il violino e già prima di diplomarmi ho iniziato a suonare anche la viola. Pian piano mi sono resa conto che soprattutto nella musica da camera era la viola che più mi attraeva a suonare, era la sua personalità che per me faceva la differenza. La scelta quindi di passare da anche violista a violista non mi è risultata affatto difficile. Avevo poi da tempo voglia di avvicinarmi alla prassi esecutiva con uno strumento che mi permettesse di utilizzare la stessa impostazione tecnica, richiedendo però un approccio mentale nuovo per così uscire un po' dai soliti automatismi. La viola d'amore richiede flessibilità, un approccio più polifonico alla musica e una ricerca del suono molto accurata. Tutto sommato non ho trovato grande difficoltà ad abituarmi alla nuova tecnica, grazie anche alla guida nel corso di diverse masterclass della maestra Marianne Ronè Kubiszek e anche alla possibilità di avere tra le mani uno strumento eccellente. Consiglio di cuore a tutti i colleghi appassionati di musica antica e non solo di avvicinarsi alla meravigliosa esperienza che ci regala la viola d'amore.